Adesso però guardando questi manifesti, voi dovete cercare di capire, di farvi suggestionare, sapete cosa vuol dire una parola suggestionare, influenzare, insomma dovete sentirli, vi devono piacere e poi proviamo a giocare riproducendo delle piccole sagome che possono diventare dei giochi per voi, dei giocattoli, delle piccole sagome, delle silhouette per giocare con l'ombra, con giocare con le ombre come avete fatto col vostro viso, con gli oggetti, va bene? Quindi vi raccomando, guardate con occhi particolari queste nostre manifesti, perché possono essere tanti piccoli personaggi, prego piano piano guardate, fate girare in silenzio Mano, per batteria, non si tolta, non si tolta, si cuore, si cuore, vedete come sono anche... Allora, mi ricordate che la silhouette da Sarko e Selle di Troncino, questi personaggi hanno questa caratteristica che molto spesso non c'è la dose bellissima la dose bellissima la dose bellissima dell'acqua cosa è? la dose bellissima dell'acqua non c'è la dose bellissima non c'è la dose bellissima ti piace? allora prendiamo l'acqua bene bene Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.